ciao a tutti gli amici di youtube mi trovo qua perché stasera c'è l'apparizione c'è 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 quindi siamo stati un po fortunati perché 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 non è che si verifica spesso vogliamo soffrire come se ha fatto Gesù questo per noi soffriamo anche noi per Gesù Cristo io ringrazio a mia moglie che mi ha dato questa possibilità perché ci credeva e vado fino in fondo non fa male non fa male ce la facciamo tieni tu sempre